E' stata veramente una manifestazione che ha coinvolto tutta la città, l'idea dell'assessorato per l'onore di guidare era quella di partire dai più piccoli dedicando loro due giorni che si occupasse non solo dell'aspetto ludico, bensì dell'aspetto formativo e questa è stata la manifestazione di interesse che noi abbiamo messo a disposizione della città, messo a disposizione di chiunque volesse presentare un progetto che devo riconoscere che è un progetto presentato dall'associazione Nerva e dalla parrocchia Santissimo Procifisso e ha dato oltre le nostre aspettative. Il mio ringraziamento va soprattutto alla città, la città ha risposto alla grande, ha risposto dando il proprio contributo. Siamo riusciti in questa grande impresa, nell'impresa di coinvolgere tutti i vari ambienti dalle parrocchie al mondo dell'associazionismo e quindi il terzo settore sia dal punto di vista volontariato, dal punto di vista delle associazioni sportive. Quindi Cerinola risponde. La denomiazione a braccia aperte è nata da un confronto all'interno dell'assessorato. Cerinola in questi due giorni sicuramente vedrà una grandissima partecipazione e sicuramente vedrà colorarsi del colore che poi è quello dei bambini. Con la mia associazione ho cercato di mettere su non solo delle zone ibere di gioco ma anche degli appuntamenti fissi in modo tale che il bambino possa, con insieme al genitore, avere queste istituzioni. Mentre scrivo il progetto e condivido questo progetto confrangerato, mi sono chiesto subito il progetto in ospedale a quei bambini che purtroppo non possono stare in mezzo alla strada con noi e quindi mi sono permesso di creare un evento che non è quello ordinario con l'associazione della Promo Therapy ma di raggiungere comunque uno spettacolo di magia per quei bambini che stanno anche in ospedale. E sono contentissimo perché le scuole, le parrocchie, le associazioni, tutti, sin dall'inizio hanno collaborato, hanno appoggiato questa idea e io sono rimasto anche all'inizio scioccato senza ragione. mettersi in gioco per i bambini. Avete visto nel programma 19 postazioni tutti giochi e altro per i bambini. E proviamo a chiudere questo progetto, quindi questi due giorni, un giro riservato agli adulti, quasi un po' come la cittadina sulla torta. Con la collaboratrice, ecco, Mattea Perpiede che modererà l'incontro, abbiamo cercato, cercato veramente, una persona che potesse venire a parlare dei diritti dei bambini. E ho trovato questa persona che è fantastica, Andrea Mori, e gli aiuto a tutti gli animatori, formatori e perché no dare spunto anche all'amministrazione di qualificare spazi, tempi e la cittadinanza a favore dei diritti dei bambini. La cosa che mi ha impressionato di più, seguendo la preparazione da parte dell'assessoratore e delle politiche sociali del Comune, da parte di Daniele, da parte delle parrocchie, di tutte le associazioni che sono state coinvolte, è stata questa, lo sforzo, la volontà di portare sabato prossimo per le strade della nostra città i bambini in compagnia dei loro genitori. La varietà, la molteplicità degli eventi che siete riusciti a organizzare consentirà a chiunque di noi, e io sarò fra questi, di uscire di casa nel primo pomeriggio di sabato e rimanere piacevolmente in giro per la nostra zona di traffico limitato, meno male che l'abbiamo fatta, per la nostra città e soprattutto nella nostra villa comunale insieme con, nel mio caso, con il mio nipote e nel caso di molti con i propri figli. il fatto di anche avere l'occasione con una terapeuta, con una persona esperta, di apprendere quali sono i meccanismi del rapporto fra adulto e bambino e che tipo di responsabilità noi abbiamo rispetto ai nostri bambini, mi pare la cosiddetta ciliegina sulla torta insomma il punto che esalta il significato di questa festa che non è una notte bianca trasformata in un pomeriggio bianco è qualcosa di totalmente diverso, anche se per alcuni versi lo può far ricordare perché il fatto di avere delle attrazioni, credo 19, 19 punti diversi, 19 iniziative diverse consentirà a tutti quanti noi di stare insieme ai nostri bambini e di godere insieme con loro della nostra città.